Al termine della messa di canonizzazione di San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II e prima della recita della Regina Celi, Papa Francesco ha salutato e ringraziato tutti i presenti a questa festa della fede e i rappresentanti di 122 paesi venuti per rendere omaggio a due pontefici che hanno contribuito in maniera indelebile alla causa dello sviluppo dei popoli e della pace. Ha salutato in particolare i malati e gli anziani verso i quali i nuovi santi erano particolarmente vicini. E' invitato a pregare la Vergine Maria che San Giovanni XXIII e San Giovanni Paolo II hanno amato come suoi veri figli.